E benvenuti in questo nuovo video, come vedete alla mia destra un'auto che si presenta bassa, anzi molto bassa e alla mia sinistra un uomo che si presenta bello, anzi molto bello e molto povero e molto povero perché per realizzare, finalmente è arrivato quel giorno Boris, che tutti ce lo chiedono ma dov'è la BMW del Boris che ce l'avete fatto? Siete, ragazzi, è tosta finire queste macchine, perché? Perché come diciamo sempre, la componente carrozzeria ci rallenta tutto ma come ci siamo arrivati qua? Ma quella è la tua Z3? Sì, se non mi parla della Z3, tagliamo Sul serio? Ma che plot twist assurdo! Ma non è di Z3 che si parla, si parla della prestigiosa 635 Aspetta che mi confondo, 3500, 6 cilindri 200 Manuale Manuale Una cosa pazzesca Io direi, prima di ripercorrere tutto quello che è stato, anche come recappone, ai ragazzi a casa Sì, anche perché ormai Neanche io mi sto capendo Io sono, per me potrebbe esserci Io so che stare dietro a Boris, che un giorno dice No, io sono finito i soldi, non la tocco più Dopo due giorni, Pietro, riusciamo per favore a fare? Smonta, rimonta, smonta Scopriamola Andiamo a vedere cosa c'è qua sotto Agli occhi appare subito la librea Perché sul subito vedi il dorato Dopo cominci a ragionare e a dire Fermi tutti Ma quest'auto striscia sul pavimento Bisogna ricordarsi di com'era quando è arrivata a casa Che il brutto di questi lavori è che essendo un restauro molto conservativo E diciamo rispettando l'epoca Non si percepisce il fatto che tantissime cose sono state aggiunte ma non si vedono Allora perché lasciarlo all'immaginazione dello spettatore Narrami quello che è stato fatto Perché quello che percepisco, io adesso vado a tradurre quello che vedono i ragazzi È un'auto, sì, molto bassa Ma anche molto simile a quando l'abbiamo vista quella sera nel pollaio Cosa è successo, Boris? Siamo partiti dal motore Abbiamo rifatto una revisione generale al motore Sostituendo i collettori di scarico anche Eh, hanno preso un bel colorino anche adesso Adesso hanno preso un bel colore E da là siamo partiti con lo scarico Perché il suo originale era un po' sfogliato, un po' vecchioto Non l'abbiamo rifatto da zero Fino alla fine con una linea da 63 Allora siamo partiti dei collettori che sono dei 3,5 e 3,5 Quindi sono tre cilindri che finiscono a metà di una Y Da quella Y siamo partiti a 63 Ok Quindi via tutto In mezzo c'è uno scarico silenziato valvolato Perché lui vuole stare tranquillo Quindi quando vuole se lo chiude se la gode Quando invece vuole fare Apre e siamo contentissimi Ovviamente l'auto è catalizzata È importante dirlo È già una buona quantità di denari se ne sono andati con i collettori Perché è una componente abbastanza esosa se non sbaglio Sì anche perché non era in programma di fare tutta questa roba Come non era in programma di tirare giù il motore Però c'era un altro problema Assetto Passiamo all'assetto allora A me è sempre piaciuta l'aria Lo so Tutte le mie macchine ho avuto aria È una cosa che non nasconde affatto Però ovviamente il budget era poco E ho speso tutto il budget Inoltre ci siamo fatti mandare quattro dischi nuovi da reparto corse Baffati per l'anteriore e il posteriore Ottimo Ricordiamo anche i ragazzi Perché se lo fosse perso Che quest'auto era stata pagata un po' Perché è un'auto costosa Magari uno non se ne intende Sta guardando e dice Vabbè è un'auto vecchia La prendi con un po' No ragazzi Stiamo parlando di un 635 CSI Ragazzi qua ci vuole la palanchetta Bisogna pagare Sono pochissimi in Italia E se la vuoi devi sganciare il grano 25k se non erro La base di partenza Questa che è un terza serie Sono una settantina in Italia Metà della quale probabilmente si è piantata Si è distrutta L'altra metà è smarrita o rubata L'altra porzione della metà L'hanno usata per fare della rapina E il nostro Boris ha deciso di acquisire una di quelle Esatto Perché chiaramente lo si capisce Abbiamo fatto l'assetto Assetto ad aria Regolabile in altezza e durezza E con gestione elettronica Quindi tutto computerizzato Perché mio? C***o L'assetto ad aria Serio no? Quale cose lì Ma siamo a dire computerizzato Lasciali dire computerizzato Computerizzato E questo per quanto riguarda l'assetto Come ha fatto a gestire tutte queste cose di bombole e bombolette Dove le ha nascoste? Mi faccia vedere l'opera del maestro Come ha agito Le abbiamo piazzate nel baule Facendo una cosa Vedo o non vedo Lui le piazza Così a primo impatto Non sembra che ci sia nulla Ma io direi che è un vano bagagli Come tutti gli altri Noi abbassiamo questa tendina Ah ci picchia Ma cosa vedo nei miei anziani occhi? La gestione e i due compressori Che agiscono Che compressano 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 l'aria Che è all'interno della bombola Esatto Gestita da un magnifico computer Computer Io faccio così Quante regolazioni ha il computer? Cinque Cinque presets Cinque presets Inutili però Lei stia al suo posto Già si sta agitando Vedo anche sbucare il famoso scarico Sì Che non è terminato Ah infatti ve lo dico Ma lei che fa Lascia forse la fetta così? Manca la sua trombetta doppia di serie Che non era facilissimo da trovare Per i 63 mm Visto che nasce a 50 mm È chiaro È un po' a capire Abbiamo trovato ordinata Adesso arriva Basta metterla E noi siamo più che felici E ci manca anche Un profilo cromato Che sta arrivando Da mettere qua Giusto Ci mancano anche i soldi Per pagarlo quel profilo Gli ultimi soldi Abbiamo un crowdfunding Per permettere a Boric Di riuscire anche a mettere La benzina adesso All'interno dell'auto Link in descrizione Un piccolo Basta devolvere anche Un 5-10 euro Nessun problema Ma anche 10 centesimi Va bene lo stesso Ma passiamo agli interni Ma aspetta Aspetta Vedi che non te ne sei accorto No e questo è bello Non te ne sei accorto Non me ne sono accorto Fermi tutti Perché è una macchina fuori In realtà è un'altra macchina S320 e S325 Intanto è riverniciata tutta Completamente Del suo colore originale Intanto l'abbiamo verniciata Tutta del suo colore originale Ok Che se no tu prendi Quattro schiaffi Si dice Ma perché non l'avete Oh È stato fatto È stato fatto il diffusore posteriore M-Technik Originale BMW dell'epoca Dell'epoca Del seconda serie Che non può montare Sul terza serie Quindi nessuno al mondo ce l'ha Ma Boris ci ha perso due mesi A far montare Quindi adesso abbiamo Con le placchette laterali Sue originali E in più scusa Le minigonne Non le avevi viste? Le minigonne? Anche queste Anni 80 Originali dell'epoca Trovate in un pollaio A Roma È andato a prendere A Roma Ma quanta avventura Quanta storia C'è dietro Un restauro del genere Subito un like Un commento E un amen Ma andiamo avanti Il bello Il bello è proprio questo Cioè che essendo sue Nate con l'auto Tu non te ne accorgi Diciamo anche che sono tutti pezzi Estremamente rari Molto rari Finire quest'auto Non è stata una passeggiata Non è solo facile Quanto ci abbiamo messo Boris? Sono passati ben sette mesi Abbiamo cominciato a dicembre Ormai sì Possiamo quindi passare Agli interni Gli interni? Gli interni che non erano Quelli con cui è stata Portata quella sera Quella dannata notte Piena di nebbia Re Capone mostra Come eravamo messi Quella sera Molto male Eravamo messi Ma siamo sicuri? Io non so mica Dove siamo Cioè ci stiamo Chiaramente avvicinando Alla nostra scomparsa Mamma che luxury Guardate Guardate Il fregio 635 CSI Retroilluminato Un piccolo accenno Di resto mod Allora quella piastra Bisogna farla a prescindere Perché i sedili Che montano Non sono quelli Di quella sera Questo è un sedile Di Sembra di un serie 6 Recaro Recaro Originale dell'epoca In condizioni ottime Recaro O Recarlo Questa copia di sedili Valgono Due Due bombe Io adesso Non sono ne ancora Arrivato alla fine Ma qualche conteggio Me lo sono fatto Dei 25 cappi iniziali Che aveva Mi fatti gli schiaffi Una volta a settimana Di tiro per questo Però vabbè Ragazzi Scendi Comunque questi sono sempre Di un 635 Però probabilmente Sono della versione Americana Che aveva la Console centrale Più larga Era leggermente Diversa Quindi il sedile Sullo staffaggio originale Non poteva montare E per essere montati Gli servivano delle staffe Di centraggio Per i sedili Passiamo anche Alla parte posteriore Guardate quanto è bello Il divano posteriore Probabilmente Non l'hanno mai usato Stessa cosa il volante Non è il suo Ma è il suo Originale 635 BMW Tutto quanto Ma non è quello Con cui l'auto è tornata a casa Che era un po' masticato Dai topi Un po' vissuto Un po' sghen about Abbiamo Senti 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 anche che alta Che è quest'auto Santo cielo Premi la frizione Sai che è comoda Eh sì che è comoda Metti la marcia Eh? Allora difetto di cambi BMW In generale Che sono un po' Non ci credo Il problema di questa macchina È che non esistono Ricambi Tuning Aftermarket Racing O cose Quindi devi trovare In quegli anni Cioè con quale auto Condivideva I vari pezzi I ragazzi non stanno capendo A cosa io mi si è riferito Quando ho detto Porca miseria Che figata Cambio corto Sì C'è un short shifter Quindi elimini Tutto il leveraggio Originale del cambio Che è quello che si sbudella Ha una sua piastra Che si chiude Sul tunnel centrale E la leva Essendo più bassa È il cambio molto più corto Tipo un castelletto Avete fatto dei video Mentre lo montavate No perché abbiamo montato Ubriachi due giorni fa Con la macchina che era Questa lascia la Chiara Questa la lasci Perché io gli ho chiesto Di riprendere Ogni singola cosa Questa non ha Questa è l'unica cosa Fidati che era meglio Era meglio Non vedere Basta togliere la cuffietta E vedi subito Ok diamogli un'occhiata Eccolo va Basta Ma basta Perché anche tutto L'impianto elettrico Dentro è stato tirato giù È stato controllato Perché non funzionavano Le luci Adesso io arriverei Ad un punto della situazione Io farei un rapido calcolo Di quello Che è stato speso Per avere quest'auto Dopodiché Dimenticheremo Quell'orribile Nozione Accendendo l'auto E lasciamo Il dolce in bocca I nostri spettatori E io vorrei anche Tirare fuori Quella piccola clip Dove eravamo nel pollaio E in quattro litigavamo A quanti soldi ci vogliono Per sistemare Io mi ricordo Tipo un dieci A mani basse Perché sai Lui no È quello del Ci metti questo Ci metti questo Io parlo per il mio standard Dopo c'è il nostro Che è quello reale Però dieci Dieci k vanno via Dieci k vanno via Dieci mila Sì Più di duecento ore Secondo me E abbiamo speso Quarantamila euro Lì dove ci siamo Fermati di contare Dopo sono andati Probabilmente Un quarantacinque mila Sono andati Senza tener conto Delle ore di lavoro Gli airlift Il cambio porto Un insieme di particolarità Non necessarie Ma come vezzo Per quanto riguarda Il suo progetto Sono comunque Stati inseriti I BBS Sono comunque Cerchioni originali Questi sono cerchioni Che comunque Come la coppia Di sedili Vale duemila Probabilmente anche Questi quattro cerchioni Scomponibili BBS Stanno intorno ai duemila Cioè Si parla Di una macchina Della madonna Complimenti Uno per il coraggio Due per la tenacia Ragazzi Spero che quest'auto Vi sia piaciuta Ma non possiamo Lasciarvi ovviamente Senza il test sound E magari una partenza Goliardica No da nessuna parte Perché siamo imprigionati Ma scusi Non vuoi provare A farti in giro Se me lo dici Se me lo dici così Io la scaldo Dopo te li fai in giro Va bene Dai monta su Carino Andiamo Ho sentito che fai il galletto I raduni Che arrivi Che ti ha detto Sto roba Eh Pietro Tu volresti vederlo Come arriva i raduni Hop Ecco qua Ha sculacciata Eh Sentilo Ha aperto Porca vacca Santo cielo Sembra un'auto da rally Puta ma corre A 220 cavalli Corre come una patta Un tiro lunghissimo Questi erano i pop and bang Dell'epoca C'è c'è Niente mappature Niente Aperto Crudo Velenoso Bello sportivo Ovviamente Ovviamente si è accesa la riserva Ma noi non facciamo benzina No Perché? Perché noi non abbiamo più un euro Bravo E dobbiamo aprire un crowdfunding Sì Dateci i denari Ora è giunto Un momento Permesso Questo pensa che vogliamo fargli una rapina Eh sì Ha acceso il cambio Mi ha preso paura Mamma che insedimento marcia Madonna che cambio corto Ah sì Bello Mi spiazza da quanto è corto Non sai neanche se ne l'hai messa Bello Scala 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 In terza 6.000 giri Che non finiscono mai Mamma che bello il cambio corto Eh sì Molto molto bello Adesso si scalda lo scarico Era un po' freddo ancora prima Morbido anche nel dosso Mi piace Bello sto cambio Mi fa impazzire Piacevolmente sorpreso Da questo cambio corto Che mi ha schiattato all'inizio Dicevo ma è impossibile Che sia già entrata l'altra marcia Tanto porta Trova una parete davanti Cioè hai quell'effetto BAM Si ne sei arrivato Bellissimo Vedi il bello Di quest'auto È che con questi interni Non estremi Ma con quelle accortezze Sportive Come il cambio corto Hai un'auto Che si può definire Ibrida per l'utilizzo Perché la puoi usare Tutti i giorni Per andare a lavorare Perché ti chiudi I tuoi scarichi E in più Hai capito Questa comodità Del sedile Ti permette Di arrivare a lavorare Senza Avere la schiena rotta O farti anche il viaggio Con la ragazza Per andare in montagna Al mare Dove deve essere Nel weekend Liberi gli scarichi Metti un set Magari Nell'ammortizzazione Più basso Più rigido E hai un'altra auto Poi noi Facciamo così Chiuso lo scarico Nessuno si arrabbia Nessuno Tira un pelle scatole Non sborbotta più Non attira Quegli occhi indiscreti Perfetto Ma sei tutto rosso Dennis Ma Agitato È agitato Perché ho Proprio goduto guidando Ragazzi Spero vi siate divertiti Lo short shift Ha regalato Emozioni indicibili All'inizio Mi ha spiazzato un po' Dito ma Cioè Ma è impossibile Non devi andare morbido No Devi Proprio a schiaffo Pam Pam Impatte contro un muro Si ferma Ed è entrata la marcia Ci vediamo Nel prossimo video Rimanete incollati Ragazzi Perché là c'è L'S5 E' finita Quindi 13 luglio Qui da Nomad Presentazione Live Festone proprio Caraibico Cose madonne Lucicoriandoli colore Spogliare liste Annunceremo Anzi Presenteremo Tutte le auto Comprese tre Che non avete mai visto Comprese tre Che non sono mai viste S5 Porsche Tutte dal vivo Live il 13 Non prendere impegni Instagram Nomad Customs Lo trovate Basta Ci siamo andati Fin troppo lunghi Sì esatto Basta Basta Cash No devi darmi No no Manda manda Hai una tanica Che andiamo a fare benzina Non abbiamo Una bella pinita Adesso vediamo Se hanno già fatto Dei soldi Se hanno già caricato qualcosa Quanto hanno fatto Oh crowdfunding 173 euro Andiamo a fare il pieno Forse facciamo il pieno Dai andiamo Quanti litri ha di serotonio 70 Eh non so se ci arrivi Sì basta che non fai la plus Di gasolio Facciamo gasolio Fa gasolio Questo meno Benzina agricola Anche Grazie Grazie